punteggi delle varie carte allora andiamo ad esempio nel mio club così vi faccio vedere quelle che sono le mie carte allora nel mio club andiamo a prendere ad esempio questo takuro kaneko takuro kaneko che gioca nella j1 league se vogliamo andare a vedere le sue ultime partite come avevo detto sono qui mentre invece se vogliamo andare a capire e vi voglio spiegare come vengono sviluppati i punteggi delle varie carte ve lo spiego in questa maniera allora voi dimenticatevi tutto quello che è il voto stile fantacalcio quindi dimenticatevi il volo di il voto di fantagazzetta che ogni tanto magari da dei voti un po a cazzo nel senso che non so cristiano ronaldo prende 7 anche se sbaglia tre gol davanti alla porta e il pinco pallino di turno fa doppietta e prende 6 e mezzo per dire ecco no questi sono voti oggettivi quelli di sorella oggettivo cosa vuol dire che punteggio decisivo quindi in questo caso il sapporo ha vinto bene lui si piglia 35 poi punteggio complessivo ha subito un fallo ogni fallo 0,5 in più benissimo doppietta ogni gol fatto due punti in più gol concessi gol concessi dalla squadra 2 1 anzi meno 2 perfetto poi possesso perso 19 meno 9,5 quindi meno 0,5 ognuno e tentativi totale tentativi di assist 2 bene ogni tentativo di assist totale sono due punti in più e così via quindi come potete vedere si stila un ponteggio che è oggettivo sulla performance del giocatore e non su qualcuno che magari è stimatore di caneco allora gli da 8 no 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 assolutamente questo è molto importante perché perché questo punteggio poi ci permette di andare a fare cosa a eventualmente vincere o comunque piazzarsi nel miglior modo possibile nelle leghe che si andranno a giocare adesso vi farò andare a vedere vi farò vedere non riesco più a parlare ragazzi scusate vi farò vedere come si giocano le leghe non con le common card ma con le carte rare quali sono i premi e come cercare di scalare i livelli vi ricordo sempre ragazzi di utilizzare il mio codice ref che è sorair.com slash r slash itibe lo potete trovare nei commenti e nella descrizione e per poter ricevere una carta omaggio all'acquisto completato l'acquisto delle prime cinque carte ovviamente questo aiuterà voi perché avrete una carta in regalo e aiuterà me perché all'acquisto delle vostre cinque carte anch'io otterrò una carta rara ovviamente chi avesse piacere di aiutarmi e di aiutarsi con una carta in regalo posso solo che dirvi grazie quindi link in descrizione referral se non siete ancora registrati registratevi